wow che notizia che giornata buonasera amici di dieta flessibile macromasters di dieta flessibile sono le 20 quasi di questo lunedì sera dove abbiamo rivelato qualcosa di pazzesco che stavano dietro le quinte da qualche giorno perché finalmente ci siamo fatti convincere e infatti quello che è successo oggi è qualcosa di particolare e direi anche di speciale perché eravamo veramente indecisi nel corso del nostro percorso con dieta flessibile italia nell'arco dell'ultimo anno se fare la mossa che abbiamo appena fatto o no ma alla fine ci avete convinti ebbene sì avete convinto mario e valerio a tirare fuori tutte le loro conoscenze riguardanti la dieta flessibile ma soprattutto in realtà l'allenamento e la nutrizione ad altissimi livelli per tutti per far diventare tutti dei veri e propri maestri infatti ragazzi appena abbiamo annunciato questa cosa guardate cosa è successo sono passate pochissime ore 119 persone sono già entrate nella lista di accesso prioritario eccola qui non vi posso spoilerare troppo come si suol dire non vi posso rivelare troppo ma considerate che 119 persone sono già saltate a bordo di una lista prioritaria ovviamente gratuita per la quale abbiamo alla quale abbiamo deciso di regalare una serie di video training gratuiti sei nello specifico che stiamo girando e che abbiamo appena terminato in questi giorni che riveleranno qualcosa che mai è stato visto sul mercato abbiamo infatti deciso di smettere di farvi credere alle bugie che stanno lì fuori nel mondo della nutrizione del fitness abbiamo deciso che è ora di smettere di giocare in piccolo proprio perché non possiamo più permetterci di avere talmente tanta gente che viene presa in giro lì fuori dal mondo della nutrizione dal fitness tradizionale proprio oggi pomeriggio giornata di lavoro intensissima su tutto il dietro le quinte quello che stiamo lavorando guardate le mie occhiaie non sono normali proprio perché ci stiamo massacrando per voi per quello che sarà qualcosa di epico una serie di contenuti che vedrete nel prossimo mese che sarà qualcosa di incredibile da qui al 16 febbraio sarete tempestati di qualcosa di mai visto quindi state sintonizzati ora al di sotto di questa diretta vi metterò il link per accedere a questa lista prioritaria qualora non siate già tra questi 119 sono passate nemmeno nemmeno 10 ore da quando abbiamo aperto questa registrazione e già sta esplodendo ovviamente considerando che quelli che poi avranno realmente accesso prioritario a quello che sarà qualcosa di unico sono meno di 100 persone quindi già 119 siamo in overbooking però non c'è problema intanto ti lascio il link qui sotto c'è tempo abbiamo tutto un mese davanti di qualcosa di unico un viaggio assieme pazzesco perché in realtà io dal 2015 che diffondo quella che la dieta flessibile sono stato tra i primi a studiarla e importarla dall'america diciamo rivoluzionando i concetti che abbiamo studiato nel mondo della nutrizione americana non ovviamente come i trainer del weekend che studiano un corsetto di due giorni da qualche parte in italia per qualche federazione sconosciuta ma da università prestigiosa in america io e il mio socio valerio e questo diciamo nel primo tempo è stato diffuso soltanto alla gente che avevamo veramente vicina proprio perché non eravamo ancora pronti a diffonderlo in tutta italia ma dal 2018 in poi il saldo è stato fatto abbiamo diffuso a tutta italia quella che la dieta flessibile già in questo momento sono oltre 7000 le persone non che ci seguono che ci ascoltano perché quella è una comunità di ormai oltre 50.000 persone considerando le persone che diciamo girano attorno ai nostri canali social quindi 50.000 persone sono informate su quella che la dieta flessibile e ben 7000 di queste sono persone che già la stanno seguendo in modo serio cioè perché hanno acquistato qualche materiale qualche cosa stanno seguendo l'approccio a dieta flessibile proprio per questo nel gruppo gratuito dieta flessibile italia sono già migliaia di persone e testimonianze ogni giorno dei risultati che la dieta flessibile ti permette di ottenere per liberarti dallo stress dell'alimentazione però è sempre più la gente che ci ha chiesto un approfondimento qualcosa per dire basta io mi sono stancato di essere preso in giro di seguire il mondo della nutrizione tradizionale dell'allenamento tradizionale essere schiavo di programmi di altri trainer essere schiavo di persone che mi raccontano cose varie sull'alimentazione poi ogni volta in grasso sgrasso in grasso sgrasso voglio diventare un maestro ci hanno chiesto più volte non avevamo le possibilità di tempo di focus per poterlo fare ma ora abbiamo deciso di aprire la tenda al dietro le quinte di quello che è il nostro programma definitivo quello che libererà veramente le persone dallo stress di diete e allenamento per sempre quindi la chiudo qui per oggi quello che ti dico è clicca qui sotto nel link che ti lascerò adesso nei commenti della diretta appena chiuderò questa diretta vedrai il link per accedere a questa lista di registrazione prioritaria sarà il primo a essere avvisato con la serie di contenuti gratuiti che rilasceremo nell'arco del mese perché avrai un mese assieme a noi verso questo viaggio verso la libertà dell'allenamento e dall'alimentazione quindi sei video training di altissimo livello di altissima qualità che ti arriveranno nei prossimi giorni abbiamo ancora un po di tempo in attesa di questi saremo assieme con molti contenuti di altissimo livello preparandoci a questi video che arriveranno a fine del mese quindi accedi alla lista di registrazione prioritaria condividi questo video metti un like metti un cuoricino se vuoi che i tuoi amici ovviamente vengono informati anche loro e siano finalmente liberi dallo stress di estenuanti diete e allenamenti restrittivi ciao da mario e ci vediamo all'interno del gruppo dieta flessibile italia perché lì dentro troverai tantissima gente che proprio come te vuole ottenere risultati definitivi sul proprio corpo per oggi è tutto vado che questo giorno di apertura di questa notizia ci ha devastati col lavoro che stiamo facendo in questo momento è qualcosa di incredibile ci vediamo al prossimo video e all'interno del gruppo